buongiorno a tutti volevo annunciarvi che siamo molto contenti di partecipare con l'ensambla di musica medievale sostenere all'art dialogue festival in svizzera il prossimo 28 agosto vi aspetto e vi invito numerosi hello dear friend i am amelie ward and i invite you to the schlossberg chateau in l'anore svizzera to the event called the voices of the schlossberg this august 28 this is a cultural journey through the ages on this day you will see my performance and exposition together with the barocco music concert see you on august 28 have a nice time bye oh 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 Grazie a tutti.